Il Rotary Club Arezzo ha celebrato il passaggio del collare. La presidenza del Club Service adesso passa così da Alberto Papini a Marco Genalti. Lascio il testimone a una persona di grande spessore. Di grande spessore perché sono convinto che è un profondo osservatore ed è uno studioso. Lui mi ha osservato molto in questa annata e sono convinto che farà delle grandi e belle cose perché è una persona di grande spessore. Innanzitutto a lui piace essere definito professore prima di commercialista e il termine professore richiama la scuola, quindi è una persona che sa studiare ma soprattutto sa insegnare agli altri. Colgo il testimone che mi passa Alberto con grande responsabilità e anche con la consapevolezza che dovrò cercare di fare il percorso nell'ottica di un'ulteriore importante annata a disposizione della collettività. Si chiude così con un bilancio più che positivo l'annata appena trascorsa, la prima in epoca post pandemia con lo sguardo già verso i prossimi obiettivi. Abbiamo fatto delle belle cose, ci siamo in parte divertiti e ci siamo anche fortemente impegnati. Una su tutte è il restauro della chiesa di San Lorenzo, la chiesa più storica della città di Arezzo. Ma poi sono state fatte anche piccole cose ma che nei contenuti e soprattutto nell'animo sono grandi cose. Una cosa è certa, ci sarà una continuità con l'opera svolta da precedente Presidente, cercheremo di portare il Rotary ancora di più all'attenzione e al servizio della comunità. Questo è l'elemento che deve fare la differenza ed è per questo che ci ruotiamo e ognuno di noi deve dare il proprio contributo al massimo.